12 lastre inclinate di basalto per il numero delle province vittime della violenza di massa che circondano uno spazio a cielo aperto dove arde la fiamma eterna. La visita di Papa Francesco al memoriale di Zizarna Caberda per non dimenticare i massacri della popolazione armena sotto l'impero ottomano del 1915 si è svolta in un silenzio intenso, commosso. Il pontefice ha deposto una corona di fiori sulla cosiddetta collina delle Rondini, prima di raccogliersi in preghiera insieme con il cattolico oscarich in secondo. Una preghiera per implorare il dono della pace tra i popoli, perché mai più il mondo cada nuovamente nella spirale di simili orrori, perché mai più qualcuno debba piangere la morte violenta dei propri cari. Sulle note nostalgiche del Dudu, che il flauto armeno ricavato da legno di albicocco, sono sfilati idealmente i volti di quanti non ci sono più, arsi brutalmente tra le fiamme dell'odio, perché il tempo polveroso e l'ostinazione della storia non possono cancellare l'orgoglio di un popolo che ha sigillato con il sangue la propria fede in Cristo.